11 febbraio in tutta Italia si celebra la giornata di raccolta del farmaco, iniziativa promossa e organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, diverse le farmacie che hanno aderito alla proposta affiggendo all'ingresso del proprio esercizio la lucandina del Banco Farmaceutico. I cittadini che vi si recheranno potranno acquistare un farmaco senza obbligo di ricetta medica da destinare alle persone bisognose, cittadini italiani ma anche stranieri assistiti da uno degli enti di beneficenza convenzionati con il Banco Farmaceutico. Tra i partners dell'iniziativa anche la Caritas che insieme ad altre associazioni di volontariato del territorio partecipa all'evento che si pone come gesto importantissimo durante l'anno sociale visto il notevole incremento delle situazioni di disagio che ogni anno emergono nelle città. Un appuntamento importante afferma Lorenzo Chieppa di Caritas Barletta un momento vitale in quanto ci permette di alimentare anche la piccola farmacia dell'ambulatorio di via Manfredi al civico 45 dove due volte la settimana i nostri medici volontari visitano e prescrivono farmaci senza fissa dimora e agli extracomunitari che dimorano sono di passaggio nella nostra comunità. Per questi motivi dice Chieppa credo che conferire un farmaco ai nostri volontari come un antinfiammatorio, un antipiretico, qualsiasi farmaco da presidio sanitario in questa giornata rappresenti un gesto di amore e consapevolezza verso coloro che soffrono. Esortiamo inoltre i parroci del territorio a dare massima diffusione all'iniziativa. Siate generosi conclude Chieppa Donate, un farmaco. La raccolta di farmaci giunta alla sedicesima edizione in 16 anni ha raccolto oltre 4 milioni e 100 mila farmaci per un controvalore commerciale di circa 24 milioni di euro. Obiettivo di questa edizione è superare i 353 mila 806 farmaci raccolti lo scorso anno di cui hanno beneficiato oltre 400 mila persone.